Come vedete oggi non sono nella mia normale postazione YouTube perché oggi andremo a fare una recensione su robot tagliaerba. Nella prima parte andremo a fare l'installazione e il montaggio di tutti i componenti di questo AntBot Pion 1000. Nella seconda parte andremo a fare la mappatura intera del giardino e nella terza parte vi mostrerò il timelapse e tutte le mie considerazioni finali. Comunque se siete interessati a questo prodotto e volete tutte le informazioni e il sito ufficiale per acquistarlo lo troverete sia nel primo commento che nella descrizione di questo video. Sigla e partiamo con la recensione. Partiamo dalla dotazione base all'interno dello scatolone oltre il nostro fantastico robottino troverete la dock station che serve a ricaricare il robottino durante il taglio dell'erba. L'alimentatore che serve a ricaricarla dock station la prolunga per l'alimentatore ed è più lunga di 10 metri per cui tanta roba. I picchettini che servono a fissare il filo per delimitare l'area di taglio. Gli altri picchetti che servono invece a fissare la dock station e infine la bobina che contiene addirittura 180 metri di filo che vi servirà come vi dicevo prima a delimitare tutta l'area di taglio. E ora partiamo con l'installazione. Come prima cosa dovete togliere il case della dock station. Queste sono le due zone dove andrà collegato il filo. Uno nel pulsante rosso e l'altro quello di ritorno nel pulsante nero. Il filo ovviamente lo fate passare all'interno di questa scanalatura in maniera tale che è veramente molto comodo a raggiungere la cavità. Lo dovete tagliare circa un centimetro dalla fine e dopo che avrete sfilato l'involucro lo andate a inserire in questa morsa così lui prenderà tutta la corrente e quando ricongiungerete l'altro filo che passerà all'interno di questa scanalatura andrà inserito nell'altro slot. E ora non vi rimane che prendervi un martello e tutti i picchetti e inserirli uno dopo l'altro a una distanza media di 70 cm. E cosa importante se avete un ostacolo come un albero oppure un marciapiede il filo deve stare a una distanza minima di 30 cm. Ho delimitato tutta la parte da tagliare e ora non ci rimane che fare l'ultimo passaggio ossia far passare il filo all'interno di questa scanalatura, tagliarlo, farlo passare sotto alla stazione per poi ricollegarlo all'altro morsetto e una volta completato questo passaggio andate a chiudere la stazione e ora come ultimo passaggio prima di passare all'applicazione non ci rimane che fissare la dock station vi basterà avvitarli con la brugola che è già data in dotazione non ci rimane che andare a collegare l'alimentatore c'è l'aggancio che è molto semplice da utilizzare collegate la spina e l'installazione è completata. Ho collegato il robottino all'applicazione mover adesso andiamo a fare un po' una carrellata dell'applicazione tra l'altro è molto interessante perché potete anche variare l'altezza del taglio come vedete potete partire da un minimo di 30 mm a un massimo di 70 mm vi ricordo che potete anche aggiornare il programma per cui se non avete l'ultima versione potete aggiornarla direttamente col vostro wifi avete anche il supporto le istruzioni per cui non manca assolutamente niente e potete anche modificare il codice segreto del robot e ora non ci rimane che iniziare la mappatura guardate come segue il cavo perfettamente è veramente perfetto come vi dicevo essendo stati distanti 30 cm ha evitato completamente il bordo del marciapiede anche le curve le fa veramente molto bene così non avete nessun rischio anche se fate degli angoli fino a 90 gradi ed eccolo qua che ha quasi finito la mappatura come vedete la dock station là in fondo guardate con che fierezza procede lungo il cammino e a mappare un giardino di queste dimensioni ha impiegato solamente un quarto d'ora ed ecco che sta tornando la dock station a scaricare tutte le informazioni guardate anche con che delicatezza si appoggia la base è veramente preciso al millimetro intanto che procede col taglio su questo tramonto vi fornisco di un po di informazioni tecniche a partire dalla larghezza di taglio che grazie alle sue lame riesce a fare 20 centimetri ad ogni passaggio per quanto riguarda la batteria ha una batteria a litio da 3500 milan per ora che ne consente l'utilizzo di quasi 40 minuti prima di tornare alla dock station e per quanto riguarda il tempo di ricarica in soli 80 minuti ritornerà al 100 per cento adoro tantissimo questi mega ruotoni guardate come sono tassellati è riuscito a mapparlo senza la minima difficoltà infatti riesce a fare pendenze fino al 40 per cento al sensore anticollisione e rileva automaticamente gli oggetti ho messo questo palo come test ma potrebbe essere anche un albero riconoscerà l'ostacolo e ci passerà completamente attorno e come velocità di rasatura siamo intorno ai 90 metri per ogni ora tra l'altro vi voglio far notare che per risparmiare e ottimizzare la batteria quando rileva dai sensori in una zona con poca erba le stoppa immediatamente e le fa ripartire appena sente che c'è dell'erba alta esattamente come in questo caso inoltre anche un sensore che se per caso si dovesse rompere il filo vi arriverà direttamente una notifica nel vostro smartphone potete anche personalizzare la rasatura lui consiglia quello incrociato a serpentina ma potete anche optare per la rasatura perpendicolare guardate che c'è il bastone che ho messo per fare il test l'ha visto si sta girando e ci passa attorno e la cosa interessante è che potete seguire il taglio direttamente dall'applicazione e vedete anche la posizione del robottino e vi dice anche tante informazioni veramente importanti tra cui l'area da tagliare e la percentuale del taglio come vedete siamo all'otto per cento anche installato lista 360 ace pro così adesso vi faccio vedere un bellissimo timelapse ed ecco fatto taglio del prato completato e stando esattamente a 30 centimetri ha rasato perfettamente tutta l'area guardate anche qua la salita come l'ha fatta perfettamente fino alla sopra sono quasi 400 metri quadrati di giardino è veramente incredibile perché non mi aspettavo che riuscisse a fare una salita di questo livello beccatevi anche questa super inquadratura da lontano è riuscito a tagliare 400 metri quadri di giardino in sole 5 ore per un totale di 3 cariche e questo modello anche il sensore dell'acqua per cui se dovesse venire a piovere durante il taglio dell'erba ritornerà in maniera automatica alla dock station comunque se siete interessati a questo prodotto e volete tutte le informazioni e il sito ufficiale per acquistarlo lo troverete sia nel primo commento che nella descrizione di questo video da questo antbot più mille è tutto vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao